Ehi ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph, e questo è Giugia Crema dei Sims 4 E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Marco, Signora Anziano, Miao Safari, Ilaria, Nick12 e Lady Lexi Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione E vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri sei eroi E siamo di nuovo qui, io sono felicissima Perché oggi abbiamo tantissime cose da fare Sei quale è la più importante? Elenca, elenca, vai 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 Te le elenco tutte direttamente Sì 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 però la più importante so già qual è vai Lo so lo so, allora non mi farò emozionare se no non riesco a dirlo Ok Come prima cosa andremo a modificare la casa E se ci fai caso è la prima volta che tocchiamo un pochettino tutte le stanze Perché a parte quella che la modifica che aveva fatto Tina Esatto Ricordi quando è impazzita Sì Non è che abbiamo fatto granché e sono felicissima di modificare la casa E come seconda cosa ovviamente che l'abbiamo annunciato nello scorso episodio Seguiremo Cracco nel suo bellissimo lavoro Che andrà ovviamente nel suo ristorante italiano a fare tanti soldi da portare a casa Giusto? No certo Cosa pensi che qua dentro loro potranno avere una bella vita? Sì ma dovrebbe essere l'obiettivo far felici le persone No 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 L'obiettivo è studiare le persone Ok E per studiarle accuratamente Anziché mandare Cracco nel suo bel ristorantino italiano Lo manderemo in un bellissimo McDonald Pronto e già messo nello scenario apposta per lui Tu vuoi prendere il suo talento Le sue mani perfette Il suo modo di tagliare i cibi così bene e precisi E metterlo a fare patatine fritte Esatto È bellissimo È bellissimo Oh oltretutto Ok Dopotutto anzi Dopotutto L'hanno scelto loro di vivere qui dentro Cioè oh Leggi le clausole Secondo me Cracco l'abbiamo un po' rapito Non lo so Povero Cracco Non sono così sicuro che Cracco abbia accettato di venire da noi Invece fa parte della famiglia Quindi io ti dico che ha accettato Comunque Non parliamo di rapimenti Una conseguenza di Cracco che è arrivato nella nuova casa è questa La crisi di Luca Luca un pochettino in crisi Si dice che da quando è arrivato Cracco Le ragazze non lo guardano più come un tempo E quindi è un po' qua Guardalo Guarda cosa sta guardando Il vuoto Una pietra Lui voleva guardare il laghetto Ok Però ha scelto il punto sbagliato e c'ha le rocce davanti Quindi diciamo che c'è questo problema Secondo me che sta facendo Sta cercando ispirazione per una nuova canzone E lo vedo anche abbastanza soddisfatto Quindi secondo me sta già trovando le parole giuste per una nuova hit musicale Speriamo Speriamo perché magari con la canzone giusta può far Tornare l'attenzione su di lui ma con Cracco è difficile No Cracco ormai ha conquistato anche me Penso che non si possa battere Cracco Mi dispiace anche io ti mollerei per Cracco Ma adesso lavora da McDonald però e perde punti Non mi interessa Non perde punti neanche così No 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 È troppo affascinante Cavolo Mi dispiace Comunque Comunque Iniziamo a modificare Andiamo Esatto A modificare la casa La parte che preferisco perché non mi piace costruire perché sono scarsa ma adoro arredare Ah però sei scarsa anche in quello Non è vero sono bravissima Allora Allora Io ovviamente ho preparato tutto senza di te Ok Perché secondo me tu sei scarso quindi non volevo neanche il tuo consiglio per arredare Grazie molto gentile Ho seguito le richieste delle cavie perché ovviamente ci hanno fatto delle richieste Certo E ti faccio vedere le modifiche che ho già apportato alla casa Ok perfetto Come prima cosa noterei che ogni stanza è divisa C'è stato un problema però Ok Che è nella stanza di Tino ovviamente Non mi sorprende Qual è il problema? Vai a vedere Fai prima a vedere Fai prima a vedere Ok Noti qualcosa? Due cose Prima di tutto che c'è il muro che è tre volte più lungo rispetto agli altre stanze Esatto Secondo che è diviso tutto tranne che equamente Terzo che lei ha letto matrimoniale Esatto Esatto Allora già ti ricordi il disastro che aveva combinato perché voleva la stanza da sola Sì Siamo riusciti un po' a farla ragionare ma diciamo che il compromesso che abbiamo trovato Ragionare Diciamo che l'abbiamo minacciata Sì si è un po' spaventata E quindi diciamo che l'unico compromesso che ha accettato è di avere la parte un po' più grande E anche il letto grande Non vuole il letto singolo Ok E vabbè dai io direi che la lasciamo così Magari arrediamo bene la parte Per fortuna Beatrice è comunque una persona molto calma e serena E credo che riuscirà ad accettare i capricci di Tina Quindi per fortuna che Beatrice è in stanza con lei Perché con Giulia secondo me sarebbe andata male Penso che il muro di visorio grande vada bene anche a Beatrice Cioè io lo vorrei ancora più grande Che dovesse averettina in stanza Quindi penso che vada bene così per tutti Allora ovviamente non riusciremo a modificare tutte le stanze oggi Perché come abbiamo visto sono tantissime Ok Iniziamo con quella di Riccardo e Federico Ok E pian piano poi in ogni episodio ne modifichiamo una alla volta Perfetto Mi piace tantissimo E non vedo l'ora di iniziare Allora mi hai messo tutte le loro richieste qua giusto Certo così non ti confondi a cercare le cose Ok Allora iniziamo dal letto Da cosa vuoi iniziare? Dal letto Scegli tu Allora questo qua è un letto verde quindi è suo Ok devo girarlo Questa è la posizione giusta? Sì mi piace Ok perfetto Penso che possa andare bene Io chiedo tutto a te perché guarda non voglio in nessun modo che tu ti lamenti contro di me Se loro non saranno felici delle stanze sarà soltanto colpa tua Io me ne lavo le mani Mi piace così Ok allora inizia Cosa vuoi posizionare? Scrivania Scrivania la mettiamo qui guarda Così? Mi piace sì Mettila al contrario vedi che ha le frecce verso questa parte Ok perfetto Penso che sia così giusta Quindi poi aggiungiamo la sedia perché dopo la scrivania ci vuole sempre la sedia Ovviamente ho fatto una super postazione per Federico Guarda la sedia È bella La postazione è comodissima bellissima e gli ho messo anche un pc costosissimo guarda Uh fammi vedere un po' Da bravo nerd qual è avrà un pc bellissimo Ma è bellissimo questo se lo sogna ancora anche Sterinichi da quanto è bello eh Sì assolutamente Sembra quasi tecnologia aliena capito? Esatto esatto per un vero gamer come lui è Mi sembra giusto Poi cosa mettiamo? Le mensoline? Le mensoline che io direi che ci stanno bene sopra il letto Così? Sì 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 Una qua e una qui Esatto bravissimo Hai visto che buon gusto che ho? E ovviamente tutti questi giocattolini sono sui li puoi posizionare nelle mensole un po' come vuoi No mettili dritti Qua la macchinina è molto bellina Sì Fammi vedere Bravo vedi Che bellino che è questo comunque Vero è troppo bellino Anche il robot è bellino Le lo rubiamo Blippi il robot Aspetta Camina parla calcola i decimali di pigreco per divertimento Blippi il robot sarà l'amico più caro e più intelligente di tuo figlio Di tuo figlio sì perché questi sono considerati giocattoli però a Federico piaceranno quindi direi che va bene metterli qua Sì mi pare che non ci sia l'altro tutto il resto di Riccardo sì finita Ok allora quindi Ti piace? Fammi vedere un pochettino abbiamo il computer super figo mensolina qua c'è la sua laurea immagino Sì è la sua laurea esatto Ok in informatica Assolutamente sì Questo è un simbolo di chimica bellissimo mensolina è con i giocattoli A dire la verità Questo lo sai che è uno stemma Ok Che indica il proprio club perché io ho intenzione di farlo entrare in un club di scienza quindi l'ho già appeso nella stanza perché nel prossimo episodio Io voglio farli entrare tutti in un club Oh mio Dio vuoi farlo finalmente entrare diciamo ma così sarà a suo agio perché lo metterei con persone che lui apprezza Ascoltami No 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 mi è venuta in mente una cosa Abbiamo preso l'espansione non abbiamo riprovato il club e quindi adesso io ti dico che li facciamo entrare nei club Sì ma mi è venuta una domanda per loro sai qual è? Quale? Preferite che le varie cavie entrino nel club adatto a loro o preferite che le varie cavie entrino nel club che più detestano? E' più divertente nel caso lo standardo si può cambiare quindi se entra in un club diverso glielo cambiamo con club di appartenenza Bostate nei commenti ragazzi perché ci sarà da divertirsi anche su questo Allora il letto un po' più di così vedi devi centrare il tappeto in pratica Così? Così esatto Perfetto? Sì 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 l'ho pensato in questo modo Ottimo Poi questa che gigante la voglio mettere subito Sotto lo specchio Sotto lo specchio Ok ho girato troppo scusami Devi metterla di così Ah bellino E questa è la cassettiera dove poi vedi che metteremo i suoi trofei tutte le sue cose Uh li voglio mettere subito Allora una super coppa Un'altra coppa bellissima Vieni metterli uno davanti all'altro perché ci sono altre cose Mettila dietro la coppa dietro la stella Abbiamo messo i trofei Perfetto Così mi sembrano carine Poi una bellissima lampada E infine questa qua Questa è la foto della sua squadra di calcio di quando era al liceo Me lo sono appena inventata Infatti guarda c'è la foto della coppa che è questa E hanno tutti la maglia rossa Eh vedi perché gli piace il rosso Dovremmo smetterla Assolutamente I poster li devi appendere qua Dove ce li ha? Da questa parte Questo? Da questa parte sì in quella parete Ok Abbastanza centrati Uno un po' più in alto Ok Ok uno E anche il secondo Così? No 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 perché lì poi ci vanno più da questa parte Così? Sì perché lì ci va un macchinario Quello esattamente Ah bello questo Sì 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 gli mettiamo due macchinari anche in camera perché sai quanto è importante per lui allenarsi Beh guardate cosa sta facendo Luca Ma che gli ha preso? Non lo so Si è messo a giocare con il robottino di Federico? Sì sì noi siamo andati a comprare il ristorante per Cracco a sua enta putta Sì gli abbiamo dato che il ristorante Sto giocando a Tekken Comunque secondo me Luca inizia a essere triste perché non ha la sua stanza arredata Che dici? Guardalo No te l'ho detto lui l'unica cosa che gli interessa Ma che succede? Sta piangendo per testa Ma come ti permetti? No Riccardo Avevi ragione comunque Che sotto la sua scorza da duro guardalo che piange davanti a una persona che neanche conosce Esatto Gli mette tristezza a vedere delle urne Io non ho parole Ma per cosa ci fa nella camera di Tina? Cioè se Tina ti becca ti spacca la faccia Anche secondo me guarda lo prende a ceffoni Devi stare attento Era incredibile Mandalo nella sua stanza ad allenarsi così è contento Così si distrae un attimino Perché lui riesce a distrarsi soltanto quando si allena Allenamento malvagio Guardatelo E' tutto fiducioso Ma ancora probabilmente non ha capito che non è venuto qua per fare tipo shopping O qualcosa del genere O per fare beneficenza e insegnare un po' di cucina al McDonald's Invece no Cracco sei qui per lavorare Andiamo subito Io prima di tutto voglio farlo vedere ragazzi Perché hanno fatto un capolavoro Noi l'abbiamo semplicemente scaricata Dalla galleria come tutte le cose Guardate quanto è bellissimo Ma poi ho notato che hanno scritto McDonald's e McCaffè Usando tutte le lucine Cioè è fighissimo come hanno fatto la scritta Sono stati bravissimi Poi abbiamo le macchine parcheggiate Perché ovviamente c'è anche il McDrive Giustamente Guardate è perfetto Cioè ci sono proprio vedi anche le postazioni qua per ordinare E' troppo troppo carino Però guarda questo vuol dire aver passione Guardalo Anche cucinando delle fritelle lui è felice Si vede comunque che è un professionista Cioè si vede da come muove tutti gli aggeggi in cucina Sta facendo volare Guarda la scodella Bravissimo Gli avrei già fatto cadere tutto Ti dico la verità Avrei rovesciato tutto Guarda i clienti Questi sono clienti però Sì 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 Allora Qua abbiamo il direttore di sala Oh guarda che carino Bello Questo è un bel ragazzo Bello sì è un bel ragazzo Abbiamo due clienti qua Lui credo che stia prendendo gli ordini Sì lui è cameriere Quindi sicuramente starà prendendo gli ordini Ha ispirato Cracco Cioè non lo batti È contento anche se lavora in un McDonald's Io non ci credo Ti sta battendo lui Sta vincendo Oh 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 Cosa vuole il cliente Scusi Si sta lamentando del tempo Ah no guarda addirittura si servono da soli Si servono da soli il caffè È ok che è un McDonald's però dai Ma scusa il cameriere che sta facendo Che lì fermo che fissa il cliente Io non vorrei dire ma guardalo Cioè sta facendo finta di nulla Allora aspetta Ok Lo sgridiamo Lo critichiamo No 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 lo critichiamo Hai ragione Perché guarda i clienti se ne sono andati I clienti se ne sono andati E Cracco subito Invece Alito dice Sembra proprio Cracco Master Ma come fai Immaginatevelo nella trasmissione che urla È esattamente così Ok guarda Abbiamo dato il benvenuto E leggi qua Tutta questa attenzione da parte del titolare Mi fa sentire davvero speciale Cracco E ci credo Sa subito come si fa il suo lavoro E ci credo E infatti adesso lo mandiamo A controllare la situazione del tavolo Perfetto Così capito Controlla la situazione Se è tutto ok Anche perché a me questo cameriere Non ispira molta fiducia Vedi è un po' così Ok 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 Sta prendendo l'ordine Sta prendendo l'ordine Sta prendendo le ordinazioni Perfetto Questa volta sta facendo il suo lavoro Vedi Sgridarlo È servito a qualcosa Assolutamente E Cracco lo sa come funziona Oh che succede Che succede È confuso Eccoli che mangiano I primi clienti soddisfatti Hanno ordinato Hanno ordinato Uno dog Un'insalata Questa qua Forse è la Cesare Caesar Non mi ricordo No era Cesare Cesare vero Perché secondo me l'hanno voluta tradurre E vabbè è chiamata così E poi questi che non siano dei caffè Non riesco a riconoscerli Ottime scelte ragazzi È tutto buono vero Bravi bravi Soprattutto il caffè È tutto buono È tutto buono Vediamo se possiamo fare Sembra come quelle persone Che le infastisci È tutto buono È tutto buono Guarda 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 Offri bevande gratis Offri cibo gratis al tavolo Offri dessert Io direi che per soddisfarlo Ancora un po' Li portiamo una bella bevanda gratis Così sarà ancora più felice Guarda questi Questi a quattro E la stellina è diventata verde Che figo Bellissima questa cosa Sta andando benissimo Poi guarda che bella gente che viene Comunque questo qua Guarda che bel ragazzo Tranquillo Molto felice Col padre Capito Questa qua è una cena di famiglia Alle 6 del mattino Quindi a colazione ormai Ok direi di fermarci così Caracco È abbastanza tranquillo Caracco Mi è uscito male Era più una cornacchia Sembri la cornacchia Che fa rumore Fuori dalla finestra Tutti i giorni Stai diventando come lei Lasciami in pace A furia di sentirla Ho preso un po' il suono Comunque ci fermiamo così È abbastanza tranquillo Prossimo episodio ragazzi Potete votare Prima di tutto Per la cosa dei club Perché voglio iniziare A vedere i club Sono troppo curioso E come seconda cosa Votate quale stanza Volete vedere modificata Perché ne abbiamo Altre tre da fare Allora abbiamo quella Di Non me ne ricordo già più Io le so tutte Tina e Beatrice Giulia e Lia Luca e Cracco Perfetto Quindi scegliete voi Nei commenti Quale volete vedere Modificata Io non vedo l'ora Di farle tutti e tre Sinceramente Quindi Guarda questa casa Io lo so che è bellissima Ma mi piace troppo Personalizzare Penso che ormai Dopotutto quello Che gli stiamo facendo passare Almeno una bella stanza Se la meritino tutti Esattamente Prima di finire questo video Ovviamente andiamo a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono The King of Creeper Giusepina Black Horse 97 XD Bomber Giacomo E Venzo 56 Ciao ragazzi Grazie mille Per la condivisione Beh ragazzi Il video è ficcio così Se vi è piaciuto Ascettaci un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao